Grazie, deputato Parentella. Grazie, Presidente. Rimborsi o finanziamenti? Prima sentivo questo gioco di parole, sempre con la semantica, eccetera, eccetera. Quello che vorrei chiarire è che si tratta appunto dei soldi degli italiani, che vi siete comunque intascati. Possiamo chiamarli come volete. Sono sempre i soldi degli italiani che vi siete intascati. Non solo dovreste restituire questi soldi e, come ho detto prima, anche i soldi del referendum, visto che non lo consideriamo più, quindi sono sempre soldi degli italiani, ma se lo fate vi promettiamo che organizziamo un bel evento, lo chiameremo Restitution Day. Vi compriamo un bel assegno gigante da far vedere ai vostri media di regime, così almeno vi facciamo un bel regalino, cioè almeno qualcosina diciamo che in cambio ve la diamo.